Gossip News. Barbara D'Urso dice addio a pomeriggio 5 e domenica live. Ecco perché. È da qualche giorno che circolano voci sul fatto che a partire dalla stagione Mediaset 2018, Barbara D'Urso non sarà più al timone di pomeriggio 5 e domenica live, due trasmissione lustro della rete ammiraglia di Mediaset, le quali hanno un enorme seguito di fans e di conseguenza ascolti molto elevati. Quale sarà dunque la verità? Anche Pier Silvio Berlusconi dice la sua sulla conduttrice del pomeriggio di Canale 5. Vediamo nel dettaglio qual è realmente la notizia che riguarda la dottoressa Gio e il suo futuro nella televisione italiana. Prima parte delle news. Ecco cos'è realmente accaduto a Carmelita. Negli ultimi giorni hanno iniziato a essere divulgate notizie che riguardano la permanenza di Barbara D'Urso alla conduzione dei due programmi di punta di Mediaset, ovvero pomeriggio 5 e domenica live. Ma si trattava soltanto di voci false al riguardo, infatti la nostra Carmelita non solo resterà salda al suo posto, ma presto pare ci sarà una sorpresa per i suoi ascoltatori. Infatti secondo quanto divulgato dalla giornalista Monica Setta su Tiscali.it, la conduttrice dei talk show di Mediaset, starebbe preparando un altro programma che potrebbe riguardare la prima serata. Una nuova sfida per la D'Urso che certamente questa volta ce la metterà tutta per evitare che ci sia una replica dei flop delle volte scorse, il primo con stasera che sera e poi con Baila. Seconda parte delle news. Pier Silvio Berlusconi punta su di lei. Secondo le ultime notizie, il vice presidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi è fermamente convinto delle grandi doti comunicative della conduttrice e per questo pronto a scommettere ancora una volta su di lei per un nuovissimo programma che presto andrà in onda in prime time, certo che non resterà deluso. Pensa infatti che Barbara D'Urso sia un cavallo vincente su cui scommettere sempre. Inoltre Barbara D'Urso è sempre in prima linea e disponibile a tutte le richieste fatte dall'azienda, che ritiene la conduttrice insostituibile. Infatti le sue trasmissioni pomeridiane vantano una grande numero di telespettatori, in particolare Domenica Live arriva a conquistare punte di share che arrivano a sfiorare anche il 18%, superando di gran lunga la concorrenza, anche durante il frame condotto dal grande Pippo Baudo sulla rete Rai 1, concorrente. Nell'attesa di avere maggiori dettagli riguardanti il nuovo programma che condurrà Barbara D'Urso, presumibilmente il prossimo autunno 2017, continuate a seguirci.